salve a tutti in questo video vi volevo mostrare come si fa l'originale di do non la pasta di sale che spesso viene insegnata nelle scuole ma proprio la plastichina vera e propria e con un procedimento vi faccio vedere come si fa seguite il video questi sono gli ingredienti l'acqua la farina il sale e l'olio aggiungere la farina nel pentolino non troppo mettere come minimo due cucchiai di sale mescolare il tutto a farina e sale non devono rimanere grumi mettere il pentolino in ebollizione siamo con un punto anche se sta per cuocere anche sicuramente affari non mi preoccupate e bene che si formino di certo non mi ha fatto bruciare però l'importante che si formino ecco perfetto così dovrà presentarsi non deve diventare completamente dura però insomma adesso che la pasta è quasi pronta si aggiunge un po d'olio mescolare a mano il tutto perché la pasta non ha assorbito tutto quanto l'olio il video è pronto